La concentrazione è massima, ha un solo obiettivo, procacciarsi del cibo. Se fallisse, i cuccioli potrebbero restare digiuni anche per giorni, il che sarebbe pericoloso. I leopardi si muovono con precisione chirurgica. Ogni loro mossa è perfettamente studiata. La caccia è la loro cifra distintiva. L'ingegno e l'arte del nascondimento sono i tratti che più li caratterizzano. La loro abilità di avvicinarsi così tanto alle prede senza farsi notare ha dello straordinario. Durante gli appostamenti, Mochima può restare anche un'ora perfettamente immobile, prima di sferrare l'attacco.